E' stata approvata all'una e mezza di notte dal Consiglio Comune di Trieste senza alcun voto contrario la mozione che traccia il percorso per recupero dell'area del Porto Vecchio a seguito dell'emendamento russo. E' stata preceduta la discussione da votazione da un dibattito intenso affrontato da maggioranza d'opposizione in termini del tutto propositivi. La sfida comincia ora, continua Paolo Rovis nella conferenza stampa dove c'è tutto il centro-destra unito e quella di trasformare il degrado in opportunità, il rudere in sviluppo economico. Un percorso tutt'altro che facile, le aspettative da superare sono tante e complesse. Ma è un obiettivo che Trieste tutta deve perseguire con forza dimostrando di aver chiuso un quarantennale stagione di contraposizioni, baruffe e sgambetti reciproci. Il punto di arrivo pure deve essere uno soltanto, vedere insediato in Porto Vecchio attività economiche in grado di generare reddito e quindi nuovi posti di lavoro per i triestini, occupazione vera, produttività stabile. E' una partita che non riguarda solo la politica ma la città intera in tutte le sue composte forme economiche, sociali e culturali, nessuno escluso. Tutti hanno il diritto e aggiungerei, ha continuato Rovis, il dover di partecipare alla costruzione di un pezzo della nostra storia e del futuro. Porto Vecchio e il nostro blocco di marmo, ha concluso Rovis, starà a ciascuno di noi evitare di ridurli nei cocci per trasformarle invece in un'opera d'arte. Il riferimento probabilmente era un po' alla mostra di Cunnellis che insomma per certi versi aveva una sorta di idea di Porto Vecchio. Il resto l'abbiamo visto per quel che riguarda Fratelli d'Italia. Il consigliere comunale Giacomelli ha parlato che bisogna vedere un po' di andare avanti dalle contraposizioni, mentre invece è stato certamente più critica l'ala di Forza Italia con Aguisa Everest che ha ricordato ancora una volta come il sindaco di Trieste è stato eletto solamente con il 25% dei voti e che quindi secondo lui non si deve e non si può decidere cosa fare o cosa non fare in termini troppo stretti. Poi dopo nel corso della serata le cose sono cambiate finché appunto è arrivato il voto unanime a favore della mozione. Il sindaco di Trieste Roberto Cosolini intervenuto più volte e ad un certo punto ha detto l'importante è che si faccia qualcosa che sicuramente Franco Bandelli ha detto è inutile continuare a dire non stiamo a fare niente, cerchiamo invece di cambiare.